Grazie anche alla Camera di Commercio di Arezzo che di fatto è stata antesignana da questo punto di vista, abbiamo letteralmente anticipato il legislatore perché sono oltre 25 anni che in questa provincia si fa alternanza scuola-lavoro. Circa 9.700 sono gli studenti aretini che hanno potuto affrontare il percorso di alternanza scuola-lavoro prima che questo diventi peraltro un obbligo curriculare. Dall'anno scolastico infatti 2017-2018 farà addirittura parte dell'esame di Stato. L'eccellenza aretina si vede anche nel finanziamento dei progetti. Sugli oltre 60 presentati in Regione Toscana e 19 quelli finanziati, 3 sono quelli aretini. Non è un caso che abbiamo portato a casa all'interno di un bando regionale che coinvolgeva ben oltre 60 progetti, il primo, il terzo e il quarto posto che tradotto in termini economici sta a significare 400.000 euro che arrivano nel nostro territorio per aiutare l'alternanza scuola-lavoro. Quindi direi un ottimo risultato, un'ottima possibilità, un'ottima opportunità per i nostri ragazzi e ragazze del territorio che avranno così nel prossimo anno, in questo anno, avranno la possibilità di andare a fare la migliore alternanza possibile dal punto di vista qualitativo all'interno delle imprese del territorio. C'è l'idea, poi vediamo se arriverà a compimento, di finanziare proprio a livello anche, non lo so se quasi di stipendio, insomma una sorta di comunque remunerazione, proprio questo percorso, quindi un po' per renderlo forse più reale possibile? Sì, allora abbiamo un problema di numero perché i ragazzi della nostra provincia sono oltre 9.700, questo sta a significare che siccome per i licei si devono fare 200 ore nel triennio, per le scuole tecniche 400, capite che l'impegno anche dal punto di vista di numero di ore è altissimo, ma la scommessa rimane anche dal punto di vista qualitativo, cioè noi una scommessa è quella di andare a fare un'alternanza dove davvero i studenti imparano che cos'è l'alternanza scuola-lavoro, imparano il loro mestiere e il loro lavoro. L'aver vinto tre progetti in provincia sull'alternanza vuol dire che le scuole della provincia sono assolutamente preparate allo sviluppo di questo percorso, sono assolutamente preparate a progettarlo e a inserirlo nei loro curriculum, quindi a livello nazionale si collocano sicuramente in una posizione, in una fascia di eccellenza. Poi noi come ufficio stiamo continuando a lavorare dal punto di vista della formazione e della sensibilizzazione delle scuole. Il fatto che gran parte delle scuole abbiano partecipato a questo progetto vuol dire che le scuole sono sensibili e quindi questo per noi è un valore fondamentale ed aggiunto sul territorio.